E conferita la medaglia d'oro al valore dell'esercito al caporal maggiore scelto Monica Graziana Contrafatto. Sono Monica Contrafatto, sono un caporal maggiore capo dell'esercito italiano. Il 24 marzo 2012 ho avuto un'attentata in Afghanistan e tra le tante cose ho perso una gamba. Stavo sul letto d'ospedale quando vedevo correre Martina e Caironi alle Paralimpiadi di Londra 2012. Io in realtà non conoscevo nessuno che avesse una disabilità, che avesse mezza gambe in più, mezza gambe in meno oppure che stesse in carrozzina. Da quel giorno vedendo correre quella ragazza mi sono innamorata anche io dell'atletica. E io dopo quattro anni, dopo aver messo anche io una protesi da corsa, sono andata anche io alle Paralimpiadi di Rio e ho vinto un bronzo alle Paralimpiadi. Quindi in realtà da letto d'ospedale in poche parole sono andata, sono salita su un podio di una Paralimpiade. La gioia per lo sport, che deriva dallo sport per me è per esempio la medaglia delle Paralimpiadi. E' vedere soddisfatta il mio allenatore quando mi vede raggiungere determinati obiettivi. E' la passione che posso dare ai miei genitori quando magari dopo l'evento traumatico e brutto, magari adesso si rendono conto che in realtà non ho perso niente, ma soltanto ho acquistato qualcosa, ovvero la voglia di vivere. Parole forti, intense di Monica Contraffatto, campionessa paralimpica di atletica, esprimono la gioia dello sport, la gioia di vivere, la passione, la vittoria. Grandi testimonianze in questo progetto Sport for Joy che vi presenteremo. Questa è la prima puntata e è una grandissima testimonianza, una grandissima campionessa dello sport italiano. Margherita Grambassi, tre titoli mondiali, uno individuale nel Fioretto, due bronzi olimpici nel 2008, individuale e a squadra. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. E poi abbiamo l'ideatore di questo progetto che ci spiegherà, appunto fatto di grandi valori e grandi testimonianze, Don Jonathan De Marco, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI. Benvenuto. Grazie, buonasera. Grazie per essere qui. Allora Margherita, che è anche una conduttrice televisiva, ha detto prima della traduzione, anche ci tiene a dirlo una mamma e questo insomma naturalmente le fa onore. Ecco, lo sport è parte importante della vita di Margherita Grambassi. Qual è stata la gioia più bella? E se poi la gioia prescinde dalla vittoria o è solo il successo? Beh no, la gioia prescinde dalla vittoria. Il momento di gioia della vittoria ti fa ricordare tutti i momenti di gioia e non solo, anche magari di fatica, di sudore e di emozioni soprattutto, perché ho un grande miscuglio di emozioni che secondo me sono la vera cosa per cui vale la pena poi vivere determinate cose. Lo sport ne procura di immense, per cui anche la gioia della vittoria odio la soddisfazione sportiva perché per quanto mi riguarda ho gioito di tante che per me sono state delle vittorie, magari non era una medaglia d'oro. Però ti fa ricordare tutti i momenti precedenti, per cui ripercorri quasi sempre tutto quello che ti è successo per arrivare fino a lì. E Don Jonathan, ecco, che cos'è Sport for Joy? Perché questo progetto? Sport for Joy vuole essere, mi piace definirla così, una possibilità potente. Una possibilità perché ci darà l'occasione attraverso, e grazie a TV2000, grazie al vostro lavoro, di dettare un percorso formativo che poi di puntata in puntata cercheremo di riversare sul territorio che con la sua creatività è chiamato un po' ad incarnarlo. Tutto il materiale che noi costruiremo durante le puntate televisive andrà su questo sito www.sportforjoy.chiesacattolica.it che sarà online dal 15 marzo. Ed è la possibilità di incominciare a guardare, o meglio riprendere a guardare lo sport con l'ottica dell'educazione. Perché lo sport ha un dinamismo particolare, ha una potenza particolare. E la potenza la vedo soprattutto in un comune denominatore, il cuore. Un atleta quando incomincia ad allenarsi, prima dei muscoli del braccio, delle gambe, allena il muscolo principale, il cuore, e lo accomuna all'allenamento della vita. È vero Margherita? È vero, sì, soprattutto inteso come grande passione per quello che si sta facendo. Insomma, la passione è fondamentale ed è quella che poi ti motiva tutti i giorni ad andare in palestra, anche magari a sopportare delle cose che sul momento non sono piacevoli, come può essere per esempio un infortunio per quanto riguarda la carriera di un atleta. Però sai che quando lo supererai, in qualunque modo lo supererai, quello sarà ovviamente un momento di gioia, di grande soddisfazione. Ecco, il superamento del limite, il superamento oppure fare le cose che non sembrano possibili. Noi abbiamo chiesto queste cose a Monica Contrafatto, ma in realtà non le abbiamo chiesto noi. L'hanno richiesto degli sportivi, dei ragazzi, gioi sportivi se possiamo chiamarli così, dell'oratorio Annunziatella di Roma. Hanno fatto delle domande e noi ve le facciamo sentire con le risposte naturalmente di Monica Contrafatto. Andiamo a sentire la prima. Ciao Monica, intervistiamo lei. Quell'Annunziatella, i mister ci dicono di non disperarci se sbagliamo un esercizio. Perché nel calcio come nella vita sono le cose più difficili che ci fanno crescere. E difficili, ma non impossibili. E tu che cosa fai quando una cosa non ci riesce? Bravo! Ciao! Bravo! Guarda, quando non riesco a fare una cosa all'inizio dico, ma chi me l'ha fatto fare? Ma chi me l'ha fatto fare? Poi in realtà penso, ma è più bello comunque arrivare a fare una cosa che non ci riesci, no? Quindi in realtà mi metto lì, lavoro, lavoro, fin quando tipo non... con quello che era magari il compito che mi doveva dare il mio allenatore, poi alla fine riesco a farlo. Quindi diventa più, non so, più soddisfacente in poche parole. Sono più soddisfatta, perché è facile fare una cosa che ti piace e che sai fare. Ma ancora meglio comunque fare una cosa che magari non riuscivi a fare inizialmente e poi successivamente invece sai fare meglio di quanto pensavi. Ecco, il limite è una cosa importante. Intanto se è un limite nella esperienza di Margherita, se è una cosa negativa. E poi come rimuoverlo e come accettarlo? Beh, secondo me il limite, quello del limite è un argomento molto affascinante. Io forse ho sempre pensato di averne più di quelli che in realtà avevo, però questo mi ha permesso di conoscermi anche meglio. Quando si dice non c'è limite a niente, non è vero, ci sono i limiti, però poi bisogna cercare di superarli o eventualmente accettarli e magari trovare un'altra soluzione. Mi piace l'idea che lo sport fornisca a chi lo pratica sin da giovane, a chi ha l'abitudine, tra l'altro, a pensare in maniera sportiva, di trovare anche delle soluzioni a quelle che poi sono le situazioni di fronte alle quali ci si trova. Qual è stato il suo limite, se ce lo può confessare? Ma il mio limite come atleta, diciamo, ancora prima degli infortuni, era magari un limite legato all'autostima. Ecco, io ho dovuto lavorarci molto. Fa strano per una persona che ha fatto uno sport di combattimento come la scherma, però ero abbastanza insicura e pensavo sempre che l'avversaria fosse più forte di me. Su questo ho lavorato molto con un allenatore mentale, ovviamente, oltre che poi con tutto lo staff che mi ha seguita. E quello, per esempio, è un limite che ho scoperto, che mi ha fatto conoscere anche quell'aspetto di Margherita, la debolezza, perché è importante anche conoscere le proprie debolezze. Secondo me ogni volta cercare di sentirsi dei supereroi è sbagliato, perché ti distoglie dalla realtà. Lei ha vinto e perso con grandi campionesse, lo possiamo dire con orgoglio, italiane. Sì. Ecco, Valentina Mezzali, Giovanna Drillini e tante altre. O soprattutto perso. Questo, dicendolo così simpaticamente, le fa onore. E questo, come l'ha aiutata e come invece ha reso più dura la strada verso la vittoria? Beh, allora, sicuramente mi ha aiutata, perché quando ero una giovane schermitrice e le mie prime convocazioni in nazionale, per me poter ammirare delle campionesse come Giovanna, Valentina e ancora Francesca Bortolozzi, Diana Bianchedi, è stato di grande esempio, perché non era un caso. Erano le prime ad arrivare in palestra e le ultime ad uscirne, per cui sicuramente mi hanno insegnato che per ottenere i risultati bisogna impegnarsi e anche tanto. Dall'altra parte, sicuramente avere una squadra così forte davanti a sé non ti fa mai sentire all'altezza, per cui tu appunto non ti senti mai abbastanza e questo probabilmente è stato un limite, è stato qualcosa su cui ho lavorato, ho cercato di imporre un pochettino quella che era la mia personalità, di ripercorrere anche la mia storia di sportiva, ho pensato a tutto quello che avevo fatto, diciamo agli allenamenti, all'impegno anche da parte della mia famiglia e ho trovato una soluzione. Poi in un'occasione speciale, proprio a Torino nel 2006, sono riuscita a scavalcare entrambe in una finale veramente meravigliosa, che tra l'altro è stata la prima in cui si sono viste tre atleti italiani sul podio, per cui la prima tripletta. Benissimo. Allora, Don Jonathan, il limite è la passione. Ecco, i ragazzi sembrano giovani un po' indifferenti, spesso ad appassionarsi. Lo sport come può aiutare e in che cosa difetta lo sport? Nella ricerca, nell'attenzione, nel coinvolgimento di tanti giovani. Sport for Joy vuole dare proprio la possibilità ai ragazzi, agli allenatori, ai genitori di comprendere lo sport e l'esperienza del limite non come un muro sul quale scantarsi, ma come una strada in salita da attraversare, da percorrere e da percorrere insieme. Perché ciò che è importante quando si parla dei limiti, dei limiti della vita, come dei limiti dello sport, è comprendere che non si è soli, ma c'è qualcuno che ti fa per te, c'è qualcuno che crede in te, c'è qualcuno che si fida di te e questa fiducia ti fa sentire importante, prezioso. E lo sport dà questa grande lezione, come il sacrificio accompagnato all'umiltà, ma accompagnato soprattutto alla solidarietà che nasce nell'esperienza sportiva, di fidarsi di qualcuno e di scoprire che qualcuno si fida di te, dà la possibilità di vivere l'esperienza dello sport, ma anche l'esperienza della vita, vincendo la più grande malattia, la malinconia. Allora, andiamo a sentire quest'altra domanda che hanno fatto i ragazzi sportivi, joy sportivi dell'oratorio Annunziatella, a Monica, e la risposta naturalmente di Monica. Sentiamo. Ciao Monica, non è perché siamo tutti felici? Perché facciamo sport in gruppo. Pensa che alla fine dell'allenamento di calcio andiamo a campo di basket, i genitori ci chiamano, ma noi facciamo finta di niente. E tu, che sei grande, ti diverti ancora? Allora, io vi racconto una cosa, che anch'io sono stata piccola, visto che qua mi dite che sono grande, quindi anch'io sono stata piccola, e in realtà mi sento ancora tuttora piccola. E quando ero piccola, io giocavo, ai tempi giocavo in Sicilia, giocavo per strada, giocavo a calcio, giocavo a basket, ci costruiamo le porte così, no? E c'era mia mamma che fuori dal balcone, mi urlava, mi chiamava sempre, fin quando poi ad una certa dovevo salire per forza, poi c'erano due schiaffetti, mi evitavano. E in realtà non è cambiato niente, perché lo sport ti fa ritornare tipo bambino, quindi quando sono pure io con i miei amici, anche se siamo tutti quanti grandi, in poche parole, dopo l'allenamento continuiamo a giocare, magari qualcuno porta un pallone da calcio, qualcuno porta un pallone da palla a volo, comunque ci divertiamo sempre, sì, continuiamo a giocare. Diciamo che lo sport è bellissimo, perché comunque è un gioco continuo, non ti fa sentire l'età che hai. Ecco, la fase del divertimento, perché poi c'è una pratica, c'è un impegno, c'è un sacrificio, diventa quasi professionale, lo diciamo per arrivare a certi livelli. Come rimane il divertimento, la componente divertimento, come rimane, come farla rimanere, come rimane poi anche per quello che si sceglie dopo lo sport? Questo domandiamo a Margherita Granbassi dopo un breve momento pubblicitario. A tra poco. Sport for Joy, la gioia dello sport, una grande iniziativa, grandi testimonianze. Abbiamo qui una campionessa del mondo, Margherita Granbassi. Parlavamo del divertimento, ecco, come si riesce ad alimentare e a mantenere costante il divertimento in una pratica che è piena di soddisfazioni, bella, ma anche dura a volte. Sì, sicuramente è faticosa sotto certi profili, ma io penso che l'elemento del divertimento non debba mai mancare. Per me fare sport significava giocare e fondamentalmente lo sport è un gioco. Certo, codificato, ci sono delle regole che vanno rispettate, ma da qui anche un valore, diciamo, educativo per molti aspetti. Io non l'ho mai perso il gusto del gioco, anche se ovviamente ci sono stati dei momenti in cui non giocavo per niente, magari. Però devo essere sincera che poi mi è piaciuto molto rivedermi nelle cose che dicevano i bambini. A me è successo anche da adulta di finire un allenamento, magari ero spinita, però con le mie compagne abbiamo imbastito magari un campo di pallavolo, giocato in qualche altra maniera. Io penso che sia fondamentale dire questo. Il movimento è uno degli istinti primordiali dell'uomo. L'uomo non può non essere contento nel momento in cui si muove, in cui fa esprimere il suo corpo. Poi se lo fai in mezzo alla natura, condividendolo magari con altre persone, con un gruppo. Il gruppo esiste anche negli sport individuali. Io ho vissuto ovviamente in uno sport prettamente individuale, in cui eravamo avversari, ma comunque che implicava di avere moltissimi momenti di gruppo. E a proposito di gioia, devo dire che ancora oggi, tornando indietro nel tempo, penso a tantissime dinamiche che isolavano poi dal momento in cui eri in pedana e di emozioni che ho vissuto con le mie amiche, anche soltanto per la condivisione di certe esperienze speciali che abbiamo fatto, come poteva essere un viaggio, una gara, un sentirsi parte di qualcosa di importante, come ha potuto essere l'Olimpiade o qualunque altro tipo di manifestazione e esperienza fatta insieme. Allora, l'esperienza. L'esperienza c'è nel territorio forte. Noi vogliamo presentare un'esperienza che riporta la gioia dello sport e del valore. I valori che diceva adesso Margherita, il gruppo, lo stare insieme, il condividere. Un'esperienza della Bolli Sportiva Virtus Correggio di Reggio Emilia. Andiamola a vedere. Intanto vi faccio i complimenti per la partita di domenica, perché non abbiamo vinto ma ci siamo comportati bene, abbiamo rispettato le regole e siamo andati molto bene nel gioco di squadra. Dai, tutti qua, tutti quanti insieme. Uno, due, tre, Virtus! Virtus Correggio è una società sportiva che nasce nel 2012 qui a Correggio come strumento dell'unità pastorale di alcune parrocchie del nostro territorio nell'ottica di poter accompagnare chiunque dentro la nostra polisportiva e offrire a chiunque un'opportunità, una squadra, un campionato, a prescindere dal loro talento tecnico o meno. Lo sport è gioia, perché per noi lo sport deve essere realmente divertimento, coesione, aggregazione. Per noi lo sport è un grande dispositivo di coesione sociale. Il valore principale è quello di poter mettere insieme tante diversità, ma la passione che li accomune li rende tutti uguali, gli consente di poter dialogare, di interloquire, di poter giocare insieme, divertendosi, annullando per certi aspetti differenze, oppure esaltando queste differenze, perché anche questo è un aspetto che lo sport può realmente dare. La soddisfazione più grande è quella di fare un pezzo di strada con loro, di accompagnarli in questo percorso educativo di crescita, di vederli, come dire, migliorare, e di vederli sempre contenti e felici dell'attività che qui trovano. E questo per noi è il motivo di maggior soddisfazione. E ci 100.000, Maremo Cittile! Lo diciamo spesso, però poi dobbiamo realizzarlo. Lo sport è un'opportunità educativa. Riguarda la persona, la fisicità, ci ha spiegato anche bene Margherita, però può riguardare anche lo spirito. Può avvicinare anche i giovani alla fede? Prendo in prestito una battuta che ha fatto Margherita prima, quando ha detto che gioco e regole vanno insieme. Noi potremmo tradurre questo binomio con il termine libertà. Una persona è libera quando esprime se stesso, quando esprime tutte le sue potenzialità, quando esprime tutta la sua bellezza, ma comprende che questa bellezza, per essere veramente espressa, ha bisogno di alcune regole, per non calpestare i piedi a nessuno, ma anche per trovare il proprio modo di lasciare il segno nel mondo. Per noi Sport for Joy è la possibilità non di portare i giovani alla fede, ma di portare la fede ai giovani. È una possibilità attraverso la quale incarnare quel messaggio che Papa Francesco cerca di farci comprendere, attuare di essere chiese in uscita. Vivere lo sport come un'esperienza dove chiesa e mondo dialogano e dove cercano di attivare delle esperienze comuni, mettendo insieme tutte le potenzialità di ciascuno, le priorità, ma anche cercando di coinvolgere tutti gli attori che nella dinamica educativa vengono interessati. Quindi la parrocchia, l'oratorio, la società sportiva, ma anche la famiglia, perché senza la famiglia non c'è educazione. E tutto parte da questa consapevolezza, che il mondo cambia grazie all'educazione. Allora, lei è un perfetto assistamento, perché parlando della famiglia ha introdotto un punto, un vulnus importante, i genitori. Perché i genitori sono quelli che poi ci portano, ci portavano e portano e noi portiamo, abbiamo portato i nostri figli a fare sport, più delle volte. Però poi c'è qualcosa, forse c'è un limite, ecco, che forse viene oltrepassato. Allora, sentiamo la domanda che fanno i bambini a Monica e poi ne parliamo. Vol Polisportivo. Sentiamo i mister e i genitori che si rivolgono a noi all'ambito un po' troppo. Ma lo sport è fatto per divertirsi. Secondo te, perché i grandi non lo capiscono? Non lo capiscono. Ciao! Perché a volte i genitori nostri sono monelli, ci mettono in punizione quando siamo piccoli, io di punizioni ne ho prese tantissime perché ero veramente monella, ma in realtà a volte si dovrebbero mettere in punizione pure loro, perché magari non si rendono conto che noi vogliamo solo giocare, ci vogliamo solo divertire, e che lo sport è comunque un momento di aggregazione, è un momento di svago e di divertimento, ma loro si fanno prendere così tanto la mano che non si rendono conto che magari noi lo facciamo solo per divertirci, punto e basta. Ecco, non tutti, Margherita, possono diventare grandi campioni, insomma questa è una banalità, però forse si fa fatica ad accettarlo da parte di tanti genitori. Ecco, qual è il giusto atteggiamento e quale invito rivolgere loro nel seguire, nel giusto distacco, l'attività dei propri figli? Allora, a me piacerebbe tantissimo avere la risposta a questa domanda. Sappiamo che fare il genitore è uno dei mestieri più duri che esistono, per cui come fai sbagli? Sicuramente però, così come c'è una educazione dell'atleta, probabilmente bisognerebbe educare anche i genitori a volte, no? Potrebbe essere un compito dell'allenatore, oppure anche in questo progetto io, probabilmente l'avete già fatto, però inserirei anche una parte educativa proprio per i genitori. Io penso che i genitori però, da un lato, hanno un valore incredibile, perché quanti campioni sono nati grazie ai genitori che portavano i bambini in palestra, che facevano spostamenti consistenti per far fare il loro sport, che li hanno portati alle gare. Per cui, però, secondo me, a un certo punto bisogna limitare questo forte coinvolgimento e soprattutto quello che io consiglio è di non riversare le proprie frustrazioni nei confronti dei figli, soprattutto quando sono piccoli. Lo sport va fatto con divertimento, sicuramente i bambini devono impegnarsi, devono imparare, che ci sono anche degli impegni nella vita, c'è la capacità di sapersi organizzare la giornata, devono imparare tante cose. Attraverso lo sport possono veramente impararne molte, che si porteranno per tutta la vita, però poi c'è ovviamente un limite che il genitore deve rispettare. E a volte, anziché supportare il figlio con determinati atteggiamenti, diciamo che lo si affossa. Una cosa non da poco, ha detto. Facciamo un invito ad aderire a questo progetto, però c'è la componente genitori e in che modo nel progetto Sport for Joy? Il progetto Sport for Joy, prendo in prestito un'altra tua battuta, che non tutti i ragazzi possono diventare campioni, però noi abbiamo una buona notizia da dire a tutti, che tutti i ragazzi possono diventare felici. E questo a noi interessa, interessa far passare anche attraverso questo progetto, che interessa le parrocchie, gli oratori, le società sportive, le associazioni e gli enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana, grazie ai quali nel tavolo nazionale è nato e abbiamo costruito insieme questo progetto e che voglio anche ringraziare. proprio per dare la possibilità a queste tre fasce, diciamo, di attori, i ragazzi, gli allenatori dirigenti e i genitori, di fare un percorso per comprendere come, se si mettono insieme tutte le forze, possiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi di vivere una primavera straordinaria, la primavera dove ognuno dà il meglio di sé, come ci ricorda il documento della Santa Sede sullo Sport, e dove è possibile sperimentare non quelle gioie grandi che esaltano, ma quelle gioie piccole che saziano. Allora, noi, Monica è stata così gentile, deve voler rivolgere a tutti i gioie sportivi un bel saluto, che adesso vi facciamo vedere. Vorrei salutare tutti i gioie sportivi d'Italia, mi raccomando, non mollate mai e soprattutto è vivo lo sport, quello pulito, eh, sempre. Ciao! 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 La gioia dei bambini, insomma, ringraziamo il gruppo sportivo paralimpico della difesa, lo stato maggiore dell'esercito, i ragazzi dell'oratorio dell'Annunziatella, ci saranno altre puntate, fra un po', e avremo altri momenti di questo genere, altri campioni, però voglio ancora approfittare di Margherita e ringraziarla tantissimo, perché sta sulla bellissima presenza. Che cosa fa adesso Margherita Granbasso? Un po', lo sappiamo perché l'abbiamo vista in tv, però... Beh, la mamma principalmente, per quello parlavo con cognizione di causa, era molto coinvolta, sì. Esatto, una bambina di quasi quattro anni, che già fa dello sport, che fa, che può fare? Già fa dello sport, fa il nuoto, poi insomma, diciamo che più che altro gioca anche con la mamma in maniera attiva, perché insomma, cerco di spronarlo a muoversi anche nella vita quotidiana, questa è una cosa molto, molto, molto importante. Poi sono nel Consiglio Nazionale del CONI, come rappresentante degli atleti, per cui continua il mio impegno in un'altra veste. Poi diciamo oggi una bella giornata, perché... Oggi ho dato anche un esame all'università, mi sono iscritta un po' da anzianotta, diciamo, però non è mai troppo tardi, per imparare delle cose, per cui sto facendo anche un percorso formativo, di cui sono... Sono molto orgogliosa. Economia internazionale, però con un indirizzo in politica e dello sport. E oggi l'esame era di? Era di storia delle Olimpiadi, di diplomazione. Non poteva che non prendere? 30. 30. Grazie, grazie per questo spot fantastico. La notte che possiamo dare. La notte che possiamo dare. La notte che la vediamo noi. Grazie. Benissimo, fa piacere, allora vedremo tra l'altro, tra non lo dice, ma tra poco per la vedremo anche in TV, sulla Rai, quindi complimenti, in bocca al lupo, grazie ancora di essere stata qui, Margherita Grambassi, Don Jonathan, qui è la prima, poi insomma dobbiamo fare altre esperienze, Sport4Joy, grande testimonianza, grandi valori, un po' in giro per l'Italia, altri campioni che risponderanno ai ragazzi. E il sito www.sport4joy.it.chiesacattolica.it da metà marzo, dove poter scaricare il materiale e incominciare a costruire i momenti formativi sui territori. Una grande collaborazione con l'Ufficio Nazionale Sport della Scei, con Sport2000 e con TV2000, la meglio di così, perché qui lo sport è di casa. Grazie Margherita Grambassi, grazie Don Jonathan Marco, a lunedì prossimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.